Fra luce e ombre, i giovani per esempio dice il rapporto del Toniolo che pensano che gli immigrati sono troppi però poi sono disposti anche a impegnarsi nell'accoglienza. Questa città può farcela secondo lei? Sì, secondo me può farcela se diciamo tutte le realtà che la abitano, ciascuno a partire dalla propria fisionomia collaborano in un progetto organico di accoglienza che ormai è necessario. Certo bisognerebbe farlo a livello europeo, forse talune cose si stanno facendo ma è bene che anche noi come Paese prendiamo un'iniziativa perché molto probabilmente saremo oggetto di una presenza molto più massiccia durante l'estate. Quindi ripeto che noi come Chiesa vogliamo in tutti i modi fare il primo intervento cioè chi dà una mano farci prossimo. Poi bisogna che però le istituzioni addette elaborino un progetto che secondo me potrebbe essere anche ormai articolato ed organico, cioè non più soltanto in chiave di emergenza ma in chiave di effettiva accoglienza. Il gelo demografico da una parte, il bisogno di questa gente dall'altra altri fattori come quelli economici fanno pensare che ormai un progetto è tentabile, abbiamo una storia alle spalle e abbiamo una prospettiva che sappiamo sarà di media durata. E poi il grande lavoro lo sta già facendo la società civile, non scorderei questo dato. Inizio di questa proposta di fare lavorare i profughi pagandoli meno, una proposta è venuta fuori adesso da livello politico? Istintivamente non si dovrebbe fare perché sarebbe come dire molto più opportuno dare un segno di accoglienza in senso pieno, però bisogna essere anche realisti, bisogna guardare le situazioni, bisogna vedere come, quando, a che condizioni, per quanto tempo, insomma c'è sempre un bisogno di tanta attenzione e concretezza in proposito. Si è ormai sdoganato il distinguo tra profughi e migranti economici, lei cosa pensa di questa distinzione? Io penso che fosse inevitabile e penso che il cosiddetto migrante economico non ha meno diritti dell'altro migrante che normalmente fugge da una situazione che è veramente molto difficile e dura. Certo, di fronte a un processo di queste dimensioni il problema della vigilanza e dell'attenzione diventa enorme, insomma, però bisogna accettare la sfida. L'idea di educare i giovani, anche europei, a non avere paura di queste situazioni? Sì, ma io penso che i giovani non hanno paura e che è passata in questi anni l'idea che si tratti di un'invasione, mi spiego. Bisogna superare questa categoria perché non è adeguata cogliere il fenomeno che oltretutto è mondiale, cioè non riguarda soltanto il Mediterraneo, ci sono tanti mediterranei nel mondo, insomma. Quindi io credo che con i giovani bisogna parlare, debbono capire, altrimenti ripetono il sentito dire, ripetono quello che i giornali scrivono. Delle televisioni dicono, ma non ci mettono del proprio. Invece se si spiega bene le cose ci mettono del proprio ed è importante. A voi.